E te ne fai? E te ne fai? Perché te ne fai? Ma non è giusto, non è vero? È giusto? È giusto come? Ecco perché me ne fado, ci sono tanti motivi. Prima fa tutti, la gente, la gente che scrive cartelli ridicoli e stupidi su Facebook e su social network, tipo Twitter, tipo perché non lasci tutte le tue ricchezze e disolvi fame nel mondo e qui la Nigeria, ma cosa credete che sono ricco? Io non c'ho un soldo, non c'ho un euro, non c'ho una sfanzica, quello è tutto Bertone, mi dà la paghetta, devo chiedere se voglio fare cappuccino e cornetto la mattina, devo fare cada domanda, Bertone, ti prego, mi allunghi due euro, per favore, devo prendere metropolitana, sembro tossico, sembro tossico. E poi la musica? Oddio che palle, la musica? Solo canti gregoriani, da mattina a zero, a me piacevano le Rolling Stones, piacevano i Beatles, piacevano tante canzoni di generazione Beat, io sono stato giovane quegli anni, mi piacevano tante canzoni di Rolling Stones, sì ce n'era una in particolare, ma non posso dire, perché sono Papa, no, non posso dire, Papa non può dire quella canzone lì, non si può dire, mi piaceva, non c'era niente di male, ma Papa non può dire, posso cantichiare? faceva, uh, 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 uh.